Salve, io sono Simone Albano, il regista di Road. Road è una docuserie che racconta di me e della mia impresa che ho fatto durante questo viaggio nel continente australiano in compagnia di 11 appassionati di ciclismo che per circa 25 giorni hanno pedalato raccogliendo soldi per questo ente benefico chiamato Variety. Queste somme venivano destinate a delle scuole con bambini che avevano disabilità motorie e fisiche. La serie fondamentalmente esplora mondi diversi, luoghi lontani appunto nell'entroterra del continente australiano ma soprattutto racconta la vita di questi 11 uomini che erano sconosciuti tra loro all'inizio del viaggio ma che attraverso questo percorso riescono a conoscersi e a compiere questa impresa. 4000 km in bici per donare un futuro agli altri. Ho voluto raccontare Road perché dopo due anni di permanenza in Australia avevo questo materiale mai montato e ho pensato di raccontare questa docu-serie. Grazie.